Ciao beautine, bentornate in questo nuovo video oggi vi propongo questo smokey eyes bello intenso sull'analità del blu e del rosa un look poco estivo sicuramente però che sta benissimo un po' su qualsiasi colorazione di occhi ed è adatto ovviamente per la sera direi quindi di non perderci in chiacchiere e partire subito con il tutorial iniziamo ad applicare il correttore su tutta la palpebra e l'ombretto color carne opaco sotto l'arcata sopraccigliare e nella piega dell'occhio nella parte finale dell'occhio nella piega dell'occhio e all'attaccatura delle ciglia inferiori applico un mix di questi due ombretti un ombretto azzurro e un ombretto blu scuro per creare l'ombretto blu intensifico la parte finale dell'occhio leggermente la piega dell'occhio e l'attaccatura delle ciglia inferiori con questo ombretto nero con riflessi blu su tre quarti della palpebra mobile applico questo bellissimo ombretto rosa creo un punto lusso nell'angolo iniziale dell'occhio realizzo la mia solita riga di liner nera nella rima interna inferiore e superiore dell'occhio applico la matita nera che vado a fissare con l'ombretto nero blu e termino il trucco occhi applicando il mascara sia sulle ciglia superiori che inferiori dell'occhio ed il tutorial è terminato come avete visto è bello intenso ma comunque facile da realizzare io spero che questo trucco occhi vi sia piaciuto se è così lasciatemi un like e noi ci dividiamo nel prossimo video ciao beautine